Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Sono il silenzio Fatto di attimi e percorsi E cerco il silenzio Benvenuta a una nuova ondata Abbiamo ospite una giovane cantatrice Debora Aprile Debora senza H Specifichiamo E a questo punto la prima domanda che ci sorge spontanea è Per chi non ti conosce ancora Come descriveresti Debora? Debora è intanto stata una bambina Sempre solare Con tanta voglia di vivere E tuttora questa cosa l'ho tenuta Ed è sempre stata un'amante dell'arte Della musica Dell'amore Infatti anche il rumore del cuore parla soprattutto dell'amor proprio E come la descrivo? Tuttora l'aggettivo è un po' fragile Me ne accorgo perché le piccolezze magari che una persona tranquilla con se stessa non fa Non dà peso Invece io sì Quindi sì Abbastanza dolce, fragile ma con tanta voglia di vivere A questo punto parliamo dell'ultimo singolo appunto Il rumore del cuore Quando nasce questo brando la cosa tra ispirazioni Ma il cuore fa tanto rumore Eppure noi non lo sentiamo Il cuore fa tanto rumore Perché come ho detto prima Con tutta questa voglia di vivere Voglia di dare amore Il mio cuore batte all'impazzata Proprio per questo Quindi da cosa è tanto ispirazione? Da un fatto personale? Oppure comunque vada Dalle sensazioni che nel vivere Tutto l'ambiente E spero che un giorno io possa trovarla e di arrivare alle persone in questo modo E aiutare le persone con il mio singolo Poi una copertina dove ci siamo È molto semplice in realtà Perché ci sei te E questa spiaggia Questo deserto Come lo volevo rappresentare? Più una spiaggia dove in realtà C'è la possibilità di un mare che possa navigare Oppure di un deserto dove il mare I sogni di un orizzonte sono lontani Esattamente proprio il secondo Perché Anche la canzone Anche il videoclip in sé C'è una parte che io ho sempre voluto avere Nel video Dove appunto la mia anima Che in questo caso sono io nel video Cammina, corre, va Ovunque per ritrovarsi Quindi per ritrovare me E quindi sì La cosa della copertina Era un deserto Dove appunto questa mia anima Sta adesso riposando Tranquilla È tutto Tutto particolare L'idea invece del videoclip È da chi nasce Oppure ti sei fatta consigliare Oppure hai dato dei suggerimenti Soprattutto nel reggirare È stato emozionante, divertente o stancante? Allora Intanto Come Il ragionamento è stato Da entrambi Quindi sia da me Che dal Videomercial Mobidelli Abbiamo fatto una lunga Chiacchierata Perché io avevo proprio in mente Già quello che volevo Iscrivere nel video Lui Essendo un professionista Mi ha capito al 100% Subito No Non è stato stancante Ma è stato molto emozionante Infatti ogni Pezzetto di Video Che noi registravamo Usciva una lacrima Perché proprio sentivo Che stava uscendo Quello che io Chiedevo Specialmente Le parti dove io sono Allo specchio Perché io lì ho voluto Rappresentare Me Che guardo lo specchio Me da bambina Quindi come se io Parlassi a me da bambina Perché infatti c'è questa veste Bianca Come si vestono i bambini Quando vanno di palletto Che sono piccolini Con questa vestaglia bianca Da notte E sono io che parlo a me stessa Da bambina E invece Previce essere nei testi Previce essere più longevo Oppure Un po' più sintetico Oppure un po' più ermetico Oppure Dare Non dare Perfettamente Una chiarezza Nella rappresentazione Dello stesso testo In realtà dipende Io Preferisco Che nella mia musica Ognuno si ritrovi Infatti Il mio testo Può essere Con diversi significati Tantissimi Danno significato All'amore di coppia Ad esempio Perché Ci sta Può essere Però io ho dato Un mio significato Quindi è bello Proprio anche questo Non dare Proprio un significato Proprio sintetico Che è proprio quello Quello e basta Per aiutare più gente A ritrovarsi Nelle mie testi E invece Qual è stata Non tanto Per ascoltare il brano Ma oltre Ascoltare il brano La tua reazione A vedere le persone Che hanno visto il videoclip Sicuramente Le persone più strette Quelle Che tu tieni Oppure comunque Tutto lo staff Nel vedere Il videoclip Finito E le loro reazioni Non tanto Solo con le parole Ma anche con i loro atteggiamenti Con i loro sguardi Tu quel momento Quale sensazione hai provato? Gioia Gioia E soddisfazione Perché Avevo capito Di aver centrato Il segno Ed era quello Che volevo In realtà Perché Io ho sempre Deseato questo Arrivare proprio al cuore Delle persone E vedendo le persone Sia Della mia famiglia Che è fuori Persone che non conosco Emozionarsi Per me è stato Incredibile Invece Le emozioni Infonate Nel vivo Quali Le sensazioni Che hai Quando Davanti c'è un pubblico Che Prima non ti conosce E poi Ti cominci a capire Ti cominci a ascoltare Comunque ti permette Quella Quell'energia Che ti Anche se poi Tu sei concentrato Sul brano Però Quali Sì È È un'emozione Che non si può descrivere Io ho già avuto modo Di portare La mia canzone Dal vivo Vedere Gli occhi Della gente Che giustamente Non si aspetta Un testo Così forte Da magari Una ragazza Di 23 anni Vedere Proprio La gente Che si commuove Con le lacrime Che proprio scendono Perché È una Sentazione Proprio Che non si può descrivere Veramente Mi appaga tantissimo Ti dà un'artista A cui ti sei un po' ispirata Comunque Involentemente Ti porti dietro Musicalmente O Nel modo Di Sbrocciare La canzone Di scrivere E suonare Sul palco Allora Sì Da sempre Le mie muse ispiratrici Sono state A livello internazionale Céline Dion E Whitney Houston Sempre Ero piccolissimo Quando le ascoltavo E da sempre Me ne sono portate Come italiane Anna D'Angelo E se invece Ti piacerebbe Suonare Su un salire Su un palco Con Un personaggio Oggi Ti chiamerebbe Ti direbbe Guarda Io domani Suono Mi verresti Ad aprire O comunque Suonare Con un duetto Con quell'artista Ti piacerebbe Che squillassi Il telefono E italiano Credo O la Tata Angelo Oppure Anna Lisa Sono Entrambe persone Che stimo Tantissimo Quindi Mi piacerebbe Davvero Tanto 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 E invece C'è Differenza Tra la Deborah Che canta Sul palco Le proprie Canzoni E Deborah Che canta Sotto il palco Da fan Di altri Cantanti Esiste Differenza Tra queste Due Deborah Diciamo Di sì L'energia È sempre Quella Io sono Stata A un Concerto Fino A qualche Mese Fa E L'energia È sempre Quella Certo Cantare Le mie Canzoni Stare Sul palco Io Cambia Totalmente Là Sono Io Al centro Di Attenzione Ascoltano Me Sono Là Per me Le persone Quindi È tutt'altra Cosa Però L'energia È sempre Quella Lì Quello Lo Ammetto Però L'emozione È diversa E A questo Punto Progetti Oltre a Promo Progetti Futuri Live O altre Manifestazioni Sono In Programma Certamente Già In Programma C'è il Secondo Singolo Che Già Stiamo Iniziando A Scrivere E A Registrare Poi Il Giorno Otto Di Questo Mese Ci sarà Uno Spettacolo Chiamato Spettacolo Delle Voci A Porto Valo Che Un Paese Vicino Da Me E Sarò Anche Ospite A Porto Valo Festival Il 23 Agosto Allora Dove Mi Potete Trovare Sicuramente Su Instagram Come Deborah Aprile Official Su Tiktok Deborah Aprile Su Facebook Debbie Official E Ovviamente Anche Su Youtube Deborah Aprile Dove C'è Anche Il Mio Videoclip Io Allora Vi Ringrazio Per Tutto E Vi Mando Un Grosso Bace Abbraccio E Grazie Mille Per Ogni Cosa Pass Ad Ogni Sfida Ad Affrontare Con Orgoglio Con Onore Siamo Pronti A Dare Il Nostro Meglio Con Pietro Come Guida Il Nostro Spirito Non Serve Mai Sport Piceno Game Studio Sette TV Intervista Di Pietro Un Cuore Di Un Campione Ogni Atleta Una Storia Ogni Momento E Emozione Studio Sette TV E Sport Piceno Game Hanno Presentato L'intervista Di Pietro Ospite Della Puntata Io sono Il Silenzio Fatto Di Atti Mi A Percorsi E Cerco Il Silenzio